Presentato il libro La corruzione, attori e trame a cura del professor Rocco D'Ambrosio e del magistrato Francesco Giannella. L'incontro promosso dal forum di formazione all'impegno sociale e politico della diocesi di Andria e cittadinanza attiva di Minervino in collaborazione con l'associazione Cercasi un fine. Mafia e corruzione, questo libro prova un po' a guardare le cause e anche i rimedi. Da dove nasce questa analisi, professore? Nasce dal confronto amichevole fra un prete, un docente di etica che sarei io, e un magistrato e nasce dal fatto, proprio come le diceva lei, di rendersi conto che c'è un po' di confusione. Per esempio si identificano alcune volte la mafia con la corruzione, invece sono due fenomeni diversi, vicini, sono cugine ma non sono sorelle né gemelle. E nasce dal voler offrire una pista di discussione per capire il fenomeno e poi anche per riflettere dal punto di vista etico, cioè cosa devono fare i cittadini per capire e combattere il fenomeno della corruzione e anche di quello di tutte le mafie. Professore, appunto le cause e i rimedi, ovviamente compatibilmente con i tempi televisivi, ma ci può dire una causa e un possibile rimedio? Beh, una causa molto forte è quella dell'avidità. Come dico ai miei studenti in maniera molto semplice, chi corrompe non sta morendo di fame, anzi ha già parecchio di denaro e ne vuole altro in maniera illecita. E poi anche meccanismi in cui si considera lo Stato, come dice un autore tedesco, più una mucca da mungere che una mucca da nutrire. I rimedi sono in parte legislativi, in parte penali, ma soprattutto i rimedi sono morali, cioè formare la popolazione a una rettitudine, i funzionari pubblici a vivere con dignità e onore, come dice la Costituzione, il proprio ruolo, e a servire concretamente il bene comune senza approfittare delle risorse pubbliche. Il libro di Don Rocco D'Ambrosio e del dottor Giannella è veramente un libro molto interessante, perché coniuga prospettive diverse. L'esperienza professionale di un magistrato che ha combattuto, combatte in prima linea la corruzione, altre forme di criminalità, l'esperienza didattica, pastorale, teologica di Don Rocco. E quindi in un panorama sicuramente affollato di molte pubblicazioni sul tema della corruzione, questo libro molto agile, scritto con una prosa molto svelta, molto godibile, sicuramente si conquista e si conquisterà, io spero si conquisterà un posto di primo piano.